Sono felice, sì, ho segnato in un momento cruciale della partita, ma il rigore, il primo rigore è stato colpa mia, che loro hanno fatto un altro, perché sono entrato un po' di prima, quindi l'errore che ho fatto, ho segnato, sono contento, molto più contento, molto felice per vincere finalmente a casa nostra, davanti ai nostri tifosi, e abbiamo giocato benissimo, con una mentalità giusta, loro non hanno creato tante occasioni, non hanno creato occasioni se non mi ricordo, quindi stiamo bene, questa è l'Odinese, e volevo solo ringraziare i miei ragazzi e i miei compagni, perché oggi abbiamo dimostrato, non solo oggi, ma queste ultime partite stiamo dimostrando che vogliamo vincere e vogliamo fare di più.